Ti spiego, tu sai chi sono i frati trappisti? I frati che fanno le cuori. Bravo, e noi siamo trappistine, siamo monache pasticcere. I dolci prima li facciamo, poi li vendiamo e con il ricavato mandiamo avanti il convento. Però purtroppo il segreto della pasticceria siciliana ancora non siamo riusciti a capirlo. Ma la provvedenza fece due cose buone, ha mandato voi a me e me a voi. Voi a me perché io ho sempre cercato un posto sicuro lontano dal demonio per potermi pentire per qualche giorno dei miei peccati. E io in cambio vi insegnerò tutta la pasticceria siciliana, i cannoli, i gelati, i marzapani, la cassata siciliana, i frutti candini. Meraviglioso, stupendo. Un po' di tutto insomma. Benissimo, e qui troverai tutto ciò che ti serve e come aiutanti avrai queste brave sorelle. E tu come ti chiami? Come ti chiami? Chiamatemi Fratelli Evita. Fratelli Evita. Mi aiuto a crescere. La pasta di mandorle è come la femmina, vuole essere davagliata con le mani del maschio. Un biscotto. Dunque, biscotti, cottura, 15 minuti. Suora Panna, ma cosa sono queste? No. I nini virgini, che tradotte in lingua contenantale significa mammelline di verginelle. Le piacciono. No, suor frittella, no, la scorza del cannolo va girata con leggerezza, con dolcezza, per ottenere la freschezza. Ecco così, mi dia la manina, adagio adagio con delicatezza, ecco così. Suora Zoccherina, che facciamo? Eh, la velata, è delegata. Attenzione alla girata. Eh, così, così, girare. Bravo. Suora Crema? Sì. Ma come si chiamano questi? Sì, no. E tu? E te io? Che strano nome, cosa vuol dire? Aspetta, le spiego subito. E tu? Un vuole. E te io? Stai qua? E te io? La frutta come andiamo qui, eh? La figurina c'è, un bambierino c'è, un minone c'è, la bullanchella c'è, la carota c'è, la ventola c'è. Adesso ci penso io. Attenzione, attenzione. Sorella sfoglia, adesso la sorpresa. Sorella sfoglia, adesso devi indovinare, eh? Che cos'è questa? Il pisoio. Eh, la fava, la fava. Vedi quanto è bella la favetta? Eh, mi dividi, mi dividi, da papunza, mi dividi.